Attacchi strumentali che non hanno né capo né coda. I documenti parlano chiaro. Il presidente della CLAI Antonio Campese, ultimo vertice della Camera di Commercio Sannita, è un fiume in piena. Ci accoglie nella sede dell'Associazione Beneventana in via dei Mulini, immerso dalle carte. Messaggi chiari e al vetriolo, non c'è spazio per fraintendimenti di sorta. Un lungo escursus dove la sintesi è abbandonare posizioni pretestuose per dare slancio al nuovo ente camerale Irpini Asagno. La parola d'ordine che emerge forte e chiara dalla conversazione e anche moralizzazione per cominciare a dare slancio e restituire sviluppo alle aree interne. Presidente Campese, lei ultimo presidente della Camera di Commercio di Benevento. Cosa pensa di quanto sta accadendo per quanto riguarda la neocamera di commercio Irpini Asagno? Un'impassa dal quale sembra non ci sia via di uscita. Io credo che ci sia molta strumentalità nelle posizioni prese attualmente dai consiglieri della Camera di Commercio. Certo è che dalla procedura di accreditamento non sono usciti due territori equilibrati e purtroppo non c'è stata una verifica delle sigle e questo non verificare le sigle, questo proliferare di sigle nuove ha ormai attaccato tutti i rinnovi camerali della Campania, non solo quello Irpini Asagno ma anche quello napoletano. Quindi secondo me bisognerà intervenire sugli atti di accreditamento dell'Associazione della Regione attraverso magari la figura di un revisore esterno che certifica la congruità finanziaria delle imprese dichiarate e degli iscritti pagati. Sicuramente così avremo un quadro più rappresentativo, più sincero ma anche più trasparente e culturalmente idoneo alla rappresentanza nelle Camere di Commercio. Lei che è chiaramente un esperto della materia, che è un esperto anche del territorio, cosa pensa della figura del nuovo Presidente Giuseppe Bruno? Io ritengo che il Presidente abbia un profilo imprenditoriale di notevole livello e che possa veramente dare un imprimatur di valore alle zone interne della Campania. Purtroppo si trova ad affrontare beghe vecchie, lontane, che hanno attraversato il mondo della Camera di Commercio negli ultimi anni. Quindi lui sta un po' affrontando vecchie eredità e credo che ci sia anche un basso profilo associativo nelle dinamiche che lo vedono interessato. Anche l'ultimo documento, su per esempio il rinnovo del segretario, il segretario è stato votato in consiglio da 31 consiglieri, è stato rivolto in giunta. Non vedo come si possa firmare una cosa che uno ha votato nella massima serenità. Ma lei un'idea si è fatta rispetto anche alla posizione di Confindustria, col diretti, attacchi diretti? Ma guardi, ognuno di noi ha la sua storia. Io ho ereditato una pesante condizione dell'ente camerale Beneventano, non me ne sono scappato. Ci sono burattini e burattinai, purtroppo questo è un mondo. Io credo che bisogna avere il coraggio anche di voltare pagina. Come vede il futuro della Camera di Commercio Irpinia-Sagno? Beh, sta in un momento cruciale. O si avrà la capacità di mettere in campo un pluriennale e una nuova architettura economico-finanziare dell'ente che sia in grado di essere promotore delle zone interne e propulsore verso anche l'ente regionale e che sia soprattutto in grado di essere una sintesi veritiera delle associazioni esistenti sul territorio. Alle associazioni che continuano ad attaccare il vertice e che continuano a far rimanere l'ente nell'impasse, cosa si sente di dire come messaggio di Ghetto? Ma di abbandonare posizione strumentale e di guardare i contenuti. Non c'è ancora un contenuto. Abbiamo votato un bilancio consultivo che erano risultanze di due commissari, approvati dai revisori con scelte fatte dai commissari. Non c'era nessuna scelta politica. Non riesco a individuare dove sia questo personalismo del nuovo Presidente. In atti che stanno lì sono pochi, sono atti tutti dovuti. Quindi come si fa a criticare una scelta personale se non vi è nei contenuti? Ma lei un'idea rispetto a queste posizioni, a questi attacchi? Se l'è fatta? Io penso che sia dovuto a un'elezione repentina avvenuta in modo forse poco digerito da tutte le associazioni, ma che ci sia bisogno di un cambio di passo da parte delle sigle e soprattutto quelle che realmente esprimono una rappresentanza territoriale. Se no si tornerà indietro. Non so ipotizzare una uscita da un impasse che non ha reali contenuti. Quindi per lei questa impasse è un impasse strumentale? Per me sì, è un impasse strumentale. Io leggo le carte, sto alle carte che mi arrivano, non ho una ricognizione di tutte, però le carte sono poche, sono pochi atti e per la maggior parte atti dovuti. Poi questo è un mondo che ha visto di tutto, ha visto dipendenti che si presentano con delibere già fatte da prendere al presidente, ha visto associazioni che si inventano nuove fattispecie giuridiche, fusione per trasformazioni per percepire soldi. Insomma, ci vuole un'opera di moralizzazione. Qual è il messaggio diretto al presidente Giuseppe Bruno, se non vuole indirizzare, considerata la situazione in cui si trova, ma essendo una persona, un imprenditore... Io non lo conoscevo, non lo conoscevo e ci siamo conosciuti in questa esperienza. Siamo partiti pure da posizioni abbastanza di diffidenza e devo dire che sto apprezzando il suo piglio e la sua capacità di ricognizione. Credo che si sia assunto un onere non... non di poco conto e quindi la mia umile persona è a sua disposizione se posso essere utile.